Ecco il nostro biglietto da visita. Avvocato Jackson, l'avvocato Megan l'attende. Ah, va bene, grazie. Ah, avvocato Jackson, entri pure. Avvocato Megan, è un grande onore. La ringrazio molto per averci ricevuto. Niente di che, il piacere è tutto mio. Prego, sedete. Ah, questo ufficio è una figata pazzesca. Sì, davvero. Ehi, ehi, ce le porta le gnocche quassù? Lei che dice? Vorrei addormentarmi con la sua voce che mi canta la linnananna. Andrò subito al sodo, non ho intenzione di farvi perdere troppo tempo. Ted, ho esaminato il suo fascicolo. E nonostante la sua causa mi stia a cuore, mi dispiace dirle che sono costretto a rinunciare. Cosa? Perché? Perché no? Beh, posso riassumerlo così. Lei vuole essere umano agli occhi della legge. Dimostrarlo è difficile, persino per me. Vede, la cosa importante dell'essere umano è che si dia un contributo alla società, che si partecipi all'evoluzione della specie. Lei non ha fatto questo. Mi sono informato. Droga, festini, prostitute, arresti... Avvocato Megan, abbiamo fatto molta strada per incontrarla. Aveva detto che ci avrebbe aiutato. Ho detto che l'avrei preso in considerazione. E l'ho fatto. Ted, lei è speciale. Avrebbe potuto essere un esempio per il mondo. Poteva essere un leader, un modello di comportamento. E invece lei è... Justin Bieber. Ma vaffanculo! Vaffanculo! Ehi, Ted, fa... Scusi, scusate, scusate. Ti chiedo, perdono, scusi, scusi. Non c'è nessuna indicazione che lei abbia avuto un effetto positivo sul mondo che la circonda. Beh, questo non è vero. Ha avuto un effetto positivo su di me. Questo effetto positivo sarebbe doppio arresto per acquisto di marijuana nel 2003. In che altro modo uno si prepara per un concerto dei Foo Fighters? Sapete perché ha perso la causa? Non può essere discusso con la ragione. Il precedente andrebbe direttamente a influenzare la giuria. E sfortunatamente la giuria non giudica con la ragione, giudica con l'emozione. Non può appellare contro una condanna dettata dall'emozione. Ciò nonostante, vi auguro tutto il meglio per i vostri sforzi. Lui ha bisogno d'aiuto. E da quanto mi avevano raccontato, una volta tutto questo le sarebbe bastato. Mi dispiace che lei non sia la persona che immaginavo. Quelle caramelle sono, diciamo, gratis? Non dovrebbero essere esposte. Quasi queste cose deve togliere. Quasi le spiege le sfortuno che sia le sfortunato.